Carissime amiche, carissimi amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, voglio parlarvi di una questione che sta suscitando in questi giorni molte polemiche, molte discussioni, ed è un fatto che è avvenuto in occasione del Lucca Comics & Games, la grande fiera che si svolge annualmente a Lucca, alla quale io poi ho anche partecipato per due giorni. Insomma, è un evento molto seguito, molto partecipato, è una delle fiere più importanti al mondo per quanto riguarda i fumetti, i giochi da tavola, i cosplay, quindi insomma tutto ciò che ha a che fare con la cultura pop, la cultura nerd, eccetera. Il comics di Lucca rappresenta un punto di riferimento molto importante, anche perché questa manifestazione nel corso degli anni non ha fatto altro che crescere, addirittura coinvolge l'intera città, o quantomeno la parte del centro storico circondata dalle mura, quindi una bella fetta di Lucca. È una manifestazione dove si può incontrare di tutto, persone che si vestono nelle maniere più disparate, ma nello specifico l'attenzione si è concentrata su un episodio che ha visto protagonisti, diciamo, due giovani ragazzi, probabilmente diciassettenni, che si sono presentati vestiti con delle uniformi tedesche della Seconda Guerra Mondiale, e oltretutto avevano anche delle fasce e una bandiera, un bandierone, insomma, con le croci uncinate, con i simboli nazisti. C'è stato un video che è stato diffuso tramite Facebook, dove vediamo questi ragazzi che stanno nella zona che credo riguardi Call of Duty, che è un gioco di guerra ambientato anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e c'è una persona, un cittadino credo lucchese, che contesta l'abbigliamento di questi due ragazzi. In sostanza il Signore si è indignato per l'esibizione di questi simboli riprovevoli. Ora, in tanti hanno detto che non si può impedire a... in tanti dico su YouTube, ci sono anche state delle dirette che poi sono state registrate, le potete trovare, ne hanno parlato in tanti, ne ha parlato, non so, Wesa Channel, ne ha parlato Cerbero Podcast, eccetera. Tutti quanti hanno portato i loro argomenti. A mio avviso non si è portata l'attenzione su un aspetto fondamentale della questione, perché tutti si sono affrettati a dire che questi ragazzi non hanno fatto nulla di male, o quantomeno non può essere loro impedito di portare questi simboli, quindi non possono essere condannati da un chi che sia, che non sia un giudice, e a seguito di un processo, per stabilire se quello che hanno fatto questi ragazzi, cioè l'esibire questi simboli sia o meno apologia del nazismo. L'argomento è stato trattato più o meno in questi termini, le riflessioni sono state piuttosto ampie, ma non si sono salvate, a mio avviso, dal qualunquismo, dalla banalizzazione di quel simbolo specifico, cioè della croce uncinata, e, insomma, si è cercato un attimino di sminuire, secondo me, l'importanza del portare un simbolo, di che cosa significa portare un determinato simbolo, in questo caso quello nazista, e diciamo che ci sia un po' rifugiati dietro il ragionamento, è una manifestazione in cui la gente si traveste, questi qui possono tranquillamente essersi travestiti da soldati tedeschi proprio perché c'era quel gioco, cioè Call of Duty, possono aver citato mille opere della cultura pop che possono essere anche i film, possono essere cinefumetti come nel caso di Hellboy di Del Toro, dove ci sono i nazisti, oppure possono essere riferimenti anche a film precedenti come quelli di Spielberg, di Indiana Jones, e così via. Però, ecco, mi sembra che non ci si sia poi spostati sull'altra questione, cioè, è vero, tu hai tutto il diritto di travestirti, di indossare quello che vuoi, e io non posso sapere perché lo fai. Potrebbe essere il caso in cui tu fai riferimento ad un fumetto, ad un videogioco, eccetera. O stai facendo una riavocazione storica. E lì ci può anche stare. Ma, siccome proprio io non posso sapere il motivo per cui tu lo fai, se ti travesti in quel modo, e in descrizione vi metterò il link per poter vedere il video completo, che è stato postato su Facebook, se ti travesti in quel modo, o con quel tipo di atteggiamento, tra l'altro, perché uno dei due ragazzi ad un certo punto dice qualcosa ma non si capisce bene che cosa dice, ma io credo che sarebbe bastato dire che, guarda, ci siamo travestiti così perché stiamo citando il gioco Call of Duty, per esempio, o qualunque altra cosa. Non siamo assolutamente nazisti o cose di questo tipo. I ragazzi, invece, mi sono sembrati abbastanza, poi mi sbaglierò, ma, cioè, con un portamento così, insomma, piuttosto rigido, comunque che non prendevano le distanze da ciò che indossavano. Cioè, non hanno detto non siamo assolutamente nazisti o roba varia, lo stiamo facendo per questo motivo. No, il loro mi è sembrato un portamento abbastanza convinto di ciò che facevano e che vestirsi da nazisti indossando soprattutto ed esibendo, ostentando quei simboli, fosse una cosa figa. Cioè, uniforme fatta bene, tutta curata, con il teschio dell'SS, con la fascia, lo stemma e il bandierone, siamo fighi. Esibendo questi simboli ci sentiamo fighi. E allora, quando succede una roba del genere, è normale che ci sia qualcuno che ti contesta. è un rischio. E questo vale per il discorso della libertà di opinione. Perché tutti, o quantomeno quelli che ho visto, si sono subito precipitati a dire non c'è nessuna legge che impedisce l'indossare un uniforme nazista, portare simboli nazisti, eccetera. Certo. Ma non esiste una legge che impedisca ad un'altra persona di contestarti se tu agisci in quella maniera. Perché uno dice ma indossano soltanto una croce uncinata, non stanno incitando nulla. Beh, è molto opinabile questa cosa. È molto opinabile. Certo, se tu ignori qual è il significato di quel simbolo allora puoi in maniera molto superficiale fare un'affermazione di questo tipo. Ma se tu conosci la storia, conosci l'ideologia e conosci la sua applicazione perché storicamente l'ideologia nazista è stata applicata e ha provocato quello che insomma è scritto sui libri di storia ed è scritto sulla pelle dei sopravvissuti. Beh, allora dovresti un attimino avere un pochino più di buonsenso secondo me. È opportuno che io mi veste in un certo modo? Magari io voglio anche vestirmi da da nazista eccetera. Però cioè vuoi indossare una uniforme tedesca però magari potresti anche evitare non che sei obbligato ma potresti evitare di esibire in questo modo simboli così ributtanti. Cioè in fin dei conti gli italiani lo sanno bene che cosa ha significato l'occupazione tedesca nazista con la complicità dei fascisti dei repubblichini cosa ha voluto dire per la popolazione no? Cioè quando io per esempio non indosserei mai un costume che ha che comprende la croce uncinata io non lo farei mai nemmeno se si trattasse di un riferimento fumettistico nemmeno se si trattasse di un riferimento videoludico o per una rievocazione io non indosserei mai nulla che ha a che fare con la Germania nazista o con l'Italia fascista niente ma questa è una mia posizione quello che dico è che se tu indossi un certo tipo di abbigliamento e soprattutto quel simbolo che significa una cosa precisa storicamente dal punto di vista storico e ideologico significa una cosa precisa va incontro naturalmente e legittimamente va incontro a gente che ti può contestare come in questo caso quindi secondo me l'attenzione doveva essere spostata anche sul fatto che è perfettamente legittimo che c'è una persona che si oppone poi che nessuno debba imporre niente a nessuno che uno si debba informare meglio sul fatto che la legge italiana non impedisce l'esibizione di questi simboli verissimo verissimo il signore che ha contestato questi ragazzi dovrebbe un attimino conoscere meglio la normativa italiana in materia ma la sua indignazione è perfettamente legittima perfettamente legittima non vale il discorso secondo me per cui eh ma questi ma questi qui a questi qui è stato impedito di stare al comics perché poi non si sa bene se questi sono stati allontanati o se ne sono andati di loro spontanea volontà anche questa non è una cosa molto molto chiara ma non è che è stato impedito loro c'è stata una persona e forse anche altre che hanno contestato l'esibizione di un simbolo criminale che si rifà ad una ideologia criminale come il nazismo in una manifestazione dove sì tutti sono mascherati ma il buonsenso il buonsenso comunque dovrebbe essere applicato anche in quel contesto è figo vestirsi da nazista secondo me no e neanche secondo la persona che ha contestato questi due ragazzi e non vale nemmeno la giustificazione secondo la quale eh ma sono ma sono due bimbetti sono due diciassettenni che magari non sanno nemmeno che cos'è il nazismo e si sono travestiti così da nazisti e sono andati lì in maniera innocua io a diciassett'anni sapevo che cos'era il nazismo non è una scusante non è che l'ignoranza deve essere giustificata a diciassett'anni si dovrebbe sapere che cos'è stata la seconda guerra mondiale si dovrebbe sapere che cos'è stato il nazismo e se non lo sai allora te ne stai a casa studi la storia e poi decidi ma prima informati prima informati perché sennò fai delle figure di merda secondo me questa è stata una figuraccia da parte di questi due secondo me poi secondo altri hanno fatto bene perché siamo liberi certo siamo liberi di indossare ciò che vogliamo ok però siamo anche liberi di contestare e non perché sei un po' scollato perché è la minigonna perché sei a torso nudo eccetera non me ne frega niente di questo non mi interessa nulla io sto parlando di simboli che sono reali quindi non stiamo parlando di roba che ha a che fare con il mondo della fantasia joker gomorra come si chiama i narcos e quant'altro non stiamo parlando di prodotti fumettistici o del mondo dell'audiovisivo stiamo parlando di realtà il nazismo è una cosa reale il regime nazista è stato una cosa reale e i morti che ha causato sono realtà e quando io vedo quel simbolo quando io vedo la croce oncinata io non posso fare altro che pensare a quello anche se si tratta di un videogioco anche se si tratta di un fumetto io non potrò fare a meno di associare quel simbolo disgustoso ai crimini che sono stati commessi realmente in modo fattuale nella storia del novecento e questo è questo è esattamente come se io prendo il simbolo non lo so di una il fascio littorio di una di una brigata nera o di una squadra raccia fascista sì il fascio littorio non è una cosa che hanno inventato i fascisti ma è stata poi utilizzata all'interno di una determinata simbologia e se io vedo quello associo quel simbolo a quei fatti a quell'ideologia e a quei crimini punto e basta poi ovviamente sta a te scegliere se presentarti ad una data manifestazione in un certo modo oppure no lo fai lo fai e puoi avere delle conseguenze e qui non si tratta di tifo da stadio perché se io porto una sciarpa no per esempio io vado io vado a Pisa e indosso una sciarpa del Livorno voglio avere la possibilità di girare senza avere rotture di scatole perché è una semplice sciarpa è un semplice simbolo di una squadra di calcio ma c'è il rischio che qualcuno mi dica qualcosa perché perché Pisa e Livorno dal punto di vista sportivo si odiano profondamente e la stessa cosa se c'è un pisano che va con la sua sciarpa a Livorno c'è il rischio che qualcuno gli dica qualcosa e se trova qualche matto lo mena pure questo non è il minimo senso perché non è importante non è importante che tu indossi un simbolo di una squadra di calcio che non ha fatto nulla di male se non quello di giocare a calcio e magari di sconfiggere la tua squadra ma non c'è una giustificazione al fanatismo in questo caso per quanto riguarda invece la simbologia nazista in questo caso la simbologia nazista lì abbiamo a che fare con roba che è stata vergognosamente vergognosamente applicata e che ha avuto degli effetti nefasti nefasti su tutti e siccome ancora oggi purtroppo c'è chi propaganda l'ideologia nazista c'è chi ti contesta c'è chi si oppone quindi io credo che la cosa debba essere valutata veramente a 360 gradi e che non si debba dire a priori ma questi sono andati lì solo per travestirsi e come si fa a dire che effettivamente è andata così potrebbero anche averlo fatto con un intento apologetico non è da escludere considerando la natura dei simboli che portano non è da escludere e questa persona che li ha contestati magari ha dato per scontato non lo so ma comunque si è indignato di sicuro per l'esibizione di questi simboli e vogliamo dire che questa persona ha torto a priori mentre i ragazzi perché dobbiamo dire che a priori sono innocenti sono inoffensivi hanno ragione a chi fa schifo giustamente giustamente la croce uncinata perché sa che cosa ha significato è giusto che contesti ci mancherebbe altro e non è che che gli ha messo le mani addosso perché come i ragazzi come i ragazzi sono stati lì impettiti esibendo questi simboli quell'altra persona li ha contestati a parole e non è andato oltre il semplice vergognatevi non gli ha messo le mani addosso non ha fatto niente poi se ha chiamato la polizia non lo so ma comunque si è rivolto alle forze dell'ordine non si è fatto giustizia con le proprie mani se ha chiamato la polizia ha comunque chiamato chi è preposto dalla legge alla tutela dell'ordine pubblico quindi si è rivolto alle autorità quindi ha utilizzato uno strumento legale legale ok quindi non ha senso secondo me spostare l'attenzione solo dalla parte di questi due e contestare il pensiero di chi invece si è indignato vogliamo fare un'analisi completa prendiamo entrambe le parti anzi nello specifico io sono andato un po' più dalla parte del contestatore perché è stata quella che mi è sembrata la più ignorata o la più avversata nei video che ho che ho visto che ho visto su youtube quindi niente questo è il mio punto di vista sulla faccenda fatemi sapere che cosa ne pensate iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti